Ciao a tutti i unicorni, oggi c'è Andrea e quindi se challenge e se magna, se magna, se vuoi e se challenge, se mastica, se mastica perché io magna non lo so, allora abbiamo qui una novità appena arriva a Tenedicola da parte di Sbabam Ragazzi, io mi diverto sempre, allora abbiamo qui l'intero scatolone della nuovissima spicy challenge, le caramelline infuocate, la sfida che ti infiamma, ma cosa infiamma, la bocca o no non lo voglio sapere, infiamma tutto, ecco qui la bellissima bustina, la biusta, la biusta mi raccomando fatevi dare sempre l'opiuscolo e l'opiuscolo perché all'interno ci sono tantissime cose, cosa ridi? Quanto costa? Tantissime cose saporite, 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 allora quanto costa? 2,99 euro, poco, pochissimo, un sacco di caramelle, belle piccanti, allora io direi di aprire qualche busta, ok, si apriamo qualche busta e scopriamo questa challenge perché c'è un messicano con la lingua dei fuori che fa epic candy, ho paura ragazzi, la jelly bean, wow, quanti colori, apriamo e qua c'è la sfida, c'è la librettino e c'è anche la ruota, la ruota, gira la ruota, gira la ruota, la ruota è il destino che ci infiammerà tutte cose, come livello extra io già leggo, ragazzi, tu già tossisci? Livello 1, gusto mela, un punto, livello 2, due punti, gusto mela, poi c'è quello giallo, livello 3, gusto limone, livello 4 che è arancione, gusto arancia, livello 5 che è tipo fucsia, fragola, livello 6 che è mora e poi livello extra che è gusto coca cola Extra piccante Ragazzi 20 punti, allora come funziona? Perché la classifica sia corretta non bisogna ingoiare la caramella ma masticarla tesoro mio, la devi masticare Ah buono Il giocatore che avrà mangiato le caramelle più piccanti e totalizza più punti avrà vinto Allora siccome noi non avremmo il tempo di tenere il punteggio, mi raccomando Tenetelo voi Prendete una calcolatrice e scrivete i punti Mi raccomando Allora, iniziamo subito Allora ok, qua abbiamo le nostre caramelle Allora, io direi di iniziare subito Chi inizia? Tu, io, tu, tu Giro la ruota Livello 2 verde Livello 2 verde Va bene, ok, ci siamo Mi è andata bene Dai, possiamo questo che già l'ho aperto Quindi posso trovare o quella buona o la piccante Eccola qua Dai, 3, 2, 1 Via Alla mela È piccante Ah No Però non tantissimo Sì, ma se già partiamo così ragazzi a fine video crepo All'inizio ho sentito il gusto di mela Il piccante è arrivato dopo Fai così con la lingua Fai con la gola E siamo ancora al verde Direi che le premesse ci sono Però così abbiamo fatto quindi due punti Ora non te lo lo terrò Aspetta raga E partiva dopo Eh, sbabbando No ragazzi Ma già la verde Ma si ribba Ragazzi, ma Non scherziamo con le cose serie Allora Ottima partenza Si va Dai, dai, dai Giallo Livello 3 Giallo Livello 3 Si sale di piccantezza Si sale Io già sono al posto Io perché non mangio piccante Quale vuoi? È la gialla Cioè, quale delle gialle? Vabbè, è uguale Aspetta che la prendo pure io Il profumo è di limone Perché quello giallo dovrebbe essere al limone Ma sarà al limone piccante Io ancora sento quella verde No dai E poi Ma come fai a non inghettirla? Si scioglie in bocca Si sbriciola in bocca Ed è piccante Beh La tua forse no È fortissima Adora l'hai beccato tu più piccante Ho beccata io Mi sto vendendo da rima Però le caramelle sono buone Sono buone Vabbè, l'ho fatto io Il punto, segnate Io l'ho fatto Io l'ho beccata piccante E l'ho mangiata Vabbè, la mia era un po' piccante Non so No, è quella di prima Fira di che è fortissima la gialla Ah, ok Pronto Pompieri Si, c'è la mia ragazza Che prende fuoco Mi raccomando Intervenite subito Vi aspetto No, ragazzi È fortissima Allora Mentre aspettiamo i pompieri Noi andiamo avanti Allora Gusto mora Livello 6 Molto bene Sì, non è normale Attenzione Grazie sbabamme 3, 2, 1 Via Ah, sì Però dai Ma sono tutte piccanti Scusate ragazzi Ma qui Sono tutte piccanti O siamo noi che siamo sfigati Ma sono tutte piccanti Allora Io devo capire Ma sono tutti piccanti No Non tutte le caramelle In tutti i livelli Sono piccanti Pompieri Anche per me Sì, sì Andrea Va bene Vi aspetto Io vi posso dire Che fra il sesto livello E il terzo livello Per me era più piccante Il secondo livello Ma questa piccante No Così tanto Come no E invece dico di sì Gira tu Ma allora non l'ho beccata io Scusate Vero Vai 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 No No raghi No raghi Livello 7 Extra piccante Attenzione Tant Tant Com'è la canzone Dei morti Daai A lei Gusto cola Mi colorerò il naso a me invece Mh Infatti che fa schifo Cosa vuoi? Ah il passo scusa Ragazzi fa schifo Ma so perché hai il mio rossetto qui Perché t'ho baciato prima Ragazzi Allora Tralasciando il bacio romantico Io qui mi sto sentendo male Questa qui non era piccante Per me Per te sì Hai fatto 20 punti di botto allora No ragazzi La mia non era piccante Ho vinto La mia non era piccante Però faceva schifo O perché a me la coca cola non piace Quindi sentire il gusto della coca cola è peggio di sentire la piccantezza Una challenge così piccante Io non l'avevo ancora mai fatta Perfetto grazie sbavando per queste caramelle giocate Ragazzi io mi sto sentendo male Fateci sapere giù nei commenti se volete Che noi andiamo a fare questa stessa challenge ma con un nostro amico Sì 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 E l'amico hai tutto qui tutto sporco Vufate Ma che che è il rossetto nei denti E questa è colpa tua Farsi sapere se volete un video insieme al nostro amico Fuffolo Per chi non lo sapesse è Riccardo Per chi ci segue invece su Instagram non lo conoscete a memoria Fuffolo Quindi Fuffolo dovrà provare questa spicy challenge di Sbabami insieme a noi Iscrivete tutti sì Perché sinceramente anche lui deve Ovviamente Come abbiamo sofferto noi Io devo ruttare Allora io penso di aver vinto Fatecelo sapere voi Hai fatto 20 punti di botto Che cosa dici Io ne avrò fatti sì E no forse 9 Ho le lacrime E con questo Il mio cipollino Tutti infuocato con questa challenge Infiammosa Grazie mille a Sbabam Li potete trovare in edicola Il costo di 2,99 euro E quando giocate Mi raccomando Abbiate sempre Latte Acqua Pazzoletti E uova Perché le uova? Non è una ricetta Così Non stiamo facendo la torta di tua nonna E con questo Vi salutiamo Vi mandiamo un bacio Lei mi dava i denti Detto questo Io vi mando Io solo io Vi mando un grossissimo bacio Grossissimo Super Un grandissimo Iper puccioso Lei niente oggi è così Non riesco a parlare più che altro Noi ci vediamo al prossimo video La prossima challenge Mi raccomando votate Mi raccomando Vi raccomando Votate per Fuffolo E noi ci vediamo al prossimo video Hai votato? Boh vabbè Ciao Mi sono rallentato Non lo so Sono ste caramelle Eppure io Ragazzi Ciao Dolci unicorni Ragazzi Aspettate Aspettate Ragazzi Io mi sento rallentata Vabbè Dove vai? Hai salutato? E beh Ciao 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 I pompieri I pompieri Dove vai Idiota? Ciao